Da giorni Gabriele Parpiglia sui social sostiene che Sonia Bruganelli in tempi non sospetti puntava alla giuria di Ballando con le stelle, al posto di Selvaggia Lucarelli, e non voleva assolutamente fare la concorrente. Una notizia che è stata confermata dalla stessa Sonia via Corriere della Sera. All'inizio la giuria era l'unico posto dove mi vedevo, la sentivo come la mia comfort zone. Pensavo di poterci stare bene. Invece, osservando i giudici da vicino ho capito che sono veramente un unico corpo, tutti e cinque insieme, ognuno con le sue caratteristiche, rappresentano il 70% del successo di Ballando e, anche da produttrice, capisco che sostituire uno di loro sarebbe complicato. Sono diventati una enormità, non a caso balliamo 50 secondi, ma parliamo tantissimo con loro. Selvaggia Lucarelli commenta la notizia su Sonia Bruganelli, che voleva il suo posto a Ballando con le stelle. Qual è l'opinione di Selvaggia Lucarelli in merito a tutto questo? Pubblicamente non si è espressa, ma ha pubblicato il proprio pensiero sulla sua newsletter. Dall'anteprima, però, si può leggere che lei ne era a conoscenza già ai tempi. In queste settimane è girata molto la voce che Bruganelli volesse il mio posto a Ballando con le stelle, le parole di Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter. Molti mi hanno chiesto di commentare questa notizia, mi hanno chiesto se è vero, se lo sapevo, se me ne importi qualcosa. Questa piccola storia mi offre l'occasione di spiegare un paio di cose sul ruolo di giudice a Ballando e di come vivo in generale la tv. Tutto inizia quando il giornalista Gabriele Parpiglia, un paio di settimane fa, racconta che Bruganelli, lo scorso anno, in virtù di suoi contatti con alcuni personaggi della dirigenza Rai, aveva provato a sostituirmi in giuria a Ballando con le stelle. La notizia era vera e io lo sapevo.